ciao ragazzi eccoci qui in un'altra lezione in questa lezione andiamo a vedere insieme come gestire le sezioni e le colonne con elementor e elementor pro andiamo a creare una nuova pagina e all'interno mettiamo un titolo come al solito scriviamo titolo 1 andiamo ad aprire con elementor eccoci qui siamo all'interno di una pagina sulla sinistra abbiamo i vari moduli con il page builder e al centro come al solito abbiamo la nostra base per lavorare quindi abbiamo i vari la libreria che abbiamo già visto e abbiamo questo simbolo che è un più di a cliccare su questo simbolo e possiamo andare a scegliere la struttura della nostra sezione che andremo a creare cliccando su una di queste configurazioni verrà aggiunta all'interno di questo spazio bianco la sezione con la relativa colonna quindi possiamo andare a scegliere una sezione singola che conterrà una colonna all'interno una sezione che conterrà una struttura con due colonne divise 50 e 50 per cento all'interno della sezione una sezione con tre colonne quattro colonne una sezione con un 20 80 e viceversa sinistra e destra e mano mano andare a scegliere tutte le altre strutture clicchiamo sulla prima struttura che è una sezione e andiamo a vedere che cosa succede aggiungendo una sezione questa è la struttura vi ricordate abbiamo scelto la prima eccola qui che abbiamo la nostra sezione qui ci dice con il tasto destro possiamo andare utilizzare alcune impostazioni per le sezioni colonne e widget clicchiamo su fatto praticamente questo è il tasto destro quello che ci sta dicendo clicca sul tasto destro del mouse e andate poi a modificare le varie impostazioni quindi ritorniamo alla sezione questa nostra sezione le sezioni sono quelle blu quelle che vedete qui e all'interno c'è una colonna in più c'è un widget e cliccando sul più come avete visto vi se eravamo all'interno delle impostazioni qui sulla sinistra ci porta ai widget da poter trascinare tutti i widget sono drag and drop quindi si possono trascinare e lasciare all'interno della sezione come funzionano le sezioni se clicchiamo sulla sezione oppure andiamo su modifica sezione cliccando il tasto destro del mouse abbiamo quale impostazioni di sezione qui sulla sinistra ok possiamo estendere la sezione quindi significa che la sezione andrà a schermo pieno una volta che abbiamo inserito un qualcosa all'interno larghezza del contenuto box quindi significa che l'impostazione quella che abbiamo visto prima 1140 viene applicata alla sezione oppure possiamo dare larghezza intera come si allarga tutta la l'estensione della pagina oppure andare a scegliere una grandezza impostata da noi ok vogliamo dare 1260 pixel a questa la ampiezza all'interno della sezione andiamo a impostare qua larghezza contenuto 1260 come vedete abbiamo impostato automaticamente andiamo a mettere come era di base command z lo prende il mio computer che sia un attimino diciamo impallato comunque con command z tornare indietro nelle impostazioni che vedete qui che torna indietro torniamo alla base spaziature colonne potendo andare a scegliere la spaziatura delle colonne all'interno nessuna spazzatura stretto largo eccetera altezza piano schermo potete andare a scegliere la spazzatura all'interno di questa sezione se volete mettere a piano schermo altezza minima andare a definire voi un'altezza minima per la sezione che c'è all'interno potete utilizzare le varie misure pixel void viewport altrimenti lasciate il predefinito qui ok allineamento verticale potete andare a scegliere quale è l'allineamento verticale all'interno della sezione quindi sopra centrale una volta che mettete un widget all'interno della colonna mettiamo al caso che ci sia questo widget qui e gli abbiamo dato una qualsiasi impostazione ritorniamo nella altezza piano schermo possiamo andare a scegliere se il widget centrale sotto sopra e c'è questo farà un movimento adesso pagina bianca non risulterebbe molto molto chiaro visto sia spostato in alto mettiamo centrale si è esposto al centro eccetera ma all'interno di layout rende di più eccedenza nascosto o predefinito è questa eccedenza qui sopra se volete vederla o meno stile della sezione qui abbiamo uno stile quindi poter mettere un cuore di sfondo faccio vedere velocemente ok oppure un'immagine abbiamo immagini qui sì eccolo qua se mettere un'immagine di sfondo quando inserite un'immagine potete anche qui andare a centrarlo a centrarla metterla scorrevoli o fissa quando fate scorrere la pagina lasciarla predefinita ripetizione non ripetere se non volete vedere cento immagini e poi le dimensioni automatico ok automatico copertina quella che di solito si utilizza per occupare tutto lo spazio contenitore utilizzerà il contenitore personalizzato gli date una grandezza in base a quello che avete bisogno potete anche andare a utilizzare gli effetti di scorrimento gli effetti del mouse che sono i motion effetto ok quindi andiamo a mettere come copertina all'immagine di sfondo potete dare un overlay che è un filtro di colore o di immagine che va come vedete a coprire leggermente l'immagine potete andare a scegliere anche qui siamo sempre sulla sezione quello che è torniamo un attimo su normale potete anche dare un gradiente ok a più colori e posizionare il gradiente in base a layout che state utilizzando potete utilizzare di filtri utilizzare di filtri e anche le modalità di fusione che cambieranno quello che lo stile grafico della immagine dello sfondo che state realizzate sono i bordi potete dare di bordi per inserire dei separatori sacomati sopra sotto ci sono varie varie tipologie di separatori sagomati potete colorate come volete e potete andare a dare una larghezza un'artezza qui stiamo parlando sempre di sezione potete invertire il separatore sagomato potete andare a scegliere la tipografia i colori se state utilizzando i colori di elementor che potete andare a scegliere i colori all'interno nella tipografia e questo è sotto stile sotto avanzate invece togliamo momentaneamente questa sezione ne prendiamo un'altra ok nella sezione avanzate invece potete andare a dare le immagini sopra sotto un rientro per esempio quando lavoro do sempre un margine di spazio un po di aria intorno alla sezione poi scusate sia la sezione poi me lo vado a regolare margine sopra per abbassare da un secondino facciamo così ricordatevi mi spiego un'altra cosa velocemente questa catenella nei margini se la lasciate collegata cambierà tutti i margine se l'aprite potete andare a lavorare solo sopra o solo sotto ok come vedete se verso il meno tira verso l'alto che se facciamo verso 0 ma verso il basso queste sono le impostazioni di margini e di rientro immagine è all'esterno della sezione il rientro è all'interno della sezione ok lo z index serve per dare precedenza a un widget rispetto a un altro se avete una sovrapposizione di sezioni o di contenuti mettendo un valore nello z index dove il valore più alto è quello che sovra sarà sovrapposto all'immagine widget che deve essere visualizzata per prima dando un valore l'immagine widget che volete visualizzare sarà sovrapposto all'alto quando vedete le sovrapposizioni tra colonie tra widget e tra immagini bisogna dare una priorità quindi lo z index serve per dare una propria priorità cssd sono dei personalizzati potete dare all'interno delle sezioni o anche dei widget a volte quando fate lo scroll con il menu per esempio per arrivare a una widget quando fate un sito di una pagina dal menu o da un menu che inserita all'interno di un layout andate inserire il cancelletto e il nome dell'id e poi qui per esempio all'interno della sezione è andata a riportare cssd il nome che avete inserito nel cancelletto e vi riporta a quella sezione classi css se avete creato delle classi css specifiche per un layout andate a riportare qui effetti di movimento quello che vi dicevo prima questo è il motion effect dove potete fare tutti gli effetti di scroller verticali orizzontali trasparenti eccetera oppure qui andate a selezionare poi la tipologia di effetto dove deve essere riportato o meno e poi fisso qui quando volete fare una sticky ovvero volete bloccare la sezione volete dare una tenerla mantenerla bloccata per qualsiasi motivo bloccate in alto per esempio o bloccate in basso andate a selezionare questa voce e fate il layout sticky la sezione o la colonna sticky ingresso animazione se volete dare una animazione alla colonna di tutte queste cose nello specifico più dettagliato ne parla nel corso di mentor master quindi potete anche acquistarle eventualmente sono molte più specifiche tecniche rispetto alle impostazioni responsive andate ad abilitare disabilitare le sezioni per le varie bis visualizzazioni ok desktop tablet mobile attributi se c'è una chiama un valore per esempio per v commerce potete inserire qui e css personalizzato se dovete fare le modifiche css con la versione pro di elemento potete inserirle direttamente in questa tabella questa è la sezione e poi come detto prima potete andare a scegliere i diversi layout faccio vedere un'altra cosa per quanto riguarda la sezione però questo è più che altro per le colonne adesso allora andiamo a parlare di colonne come ho detto prima le colonne sono all'interno delle sezioni diamo un po di spazio questa sezione e possiamo andare a prendere già pronte le colonne oppure possiamo andarle a inserire in base al layout che stiamo creando quindi se vado a duplicare o aggiungere la colonna vedete diventeranno 2 3 4 ok e in base al numero di colonne verrà stabilito verrà stabilita la percentuale automaticamente di spazio della colonna deve andare a occupare dentro questa sezione questo sarà 25 per cento 25 25 25 possiamo variare la larghezza della colonna da qui questa colonna la facciamo diventare 30 per cento eccola qui automaticamente verranno rimpostate le colonne e potete poi andarle voi a spostare in base a quelle che sono le vostre esigenze anche qui c'è un allineamento sopra centrale sotto e un verticale e orizzontale spazio delle widget che sono le lezioni precedenti inoltre per le colonne potete andare anche a fare questo lavoro e andarvi a spostare la colonna come meglio credete fino a quando raggiungere il risultato che vi serve anche per le colonne abbiamo uno stile quindi possiamo andare a mettere uno sfondo uno sfondo gradiente uno sfondo immagini dei bordi e cambiare la tipografia c'è il tipo di sfonda uber quindi quando passo col mouse per esempio sopra questa colonna potrebbe diventare verde al passaggio del mouse se non c'è un widget all'interno non si vede il cambio il passaggio eccolo qua e sempre per le colonne passaggio del mouse vari colori poi di tipografia avanzato abbiamo i margini e sono quelli interni il rientro che è quello interno immagini e quello esterno z index che tutti gli effetti che abbiamo detto prima riteniamo un attimo sulle sezioni tasto destro potete fare anche modifica sezioni duplica copia la sezione la posso andare a copiare e poi andarla a incollare me ne crea un'altra identica ritorniamo sempre qui c'è il copia incolla incolla stile se ho dato uno stile a questa colonna sopra per esempio che ha un rientro di 50 pixel andiamo inserire un'immagine vedete c'è un rientro di 50 pixel la stessa lo stesso stile facendo copia e incolla stile lo posso dare alla colonna sotto se andiamo inserire un'immagine vedete che sarà identica posso fare anche un direttamente un copia e incolla della sezione e me ne creerà scusate nella colonna me ne crea una uguale identica eccola qua la spostata posso spostare le colonne destra sinistra come voglio e poi cosa altro possiamo fare l'imposta stile se la voglio riportare allo stato lì iniziale di coso imposta stile me la fa tornare esattamente come le altre per lo stato originale abbiamo qui sempre cliccando sulla sezione questa volta abbiamo il navigatore che troviamo anche qui in basso a sinistra cliccando sul navigatore o cliccando sulla colonna navigatore o cliccando sezione navigatore apparire al navigatore nel navigatore vengono riportate le sezioni e i contenuti all'interno delle sezioni cliccando su questa sezione vedete che viene diciamo illuminata mi viene questo termine questa sezione e possiamo andare a vedere cosa c'è dentro e lavorare direttamente vedete dal navigatore questo quando serve quando creiamo una pagina molto lunga nelle sezioni possiamo andare a definire prima sezione prima colonna immagine seconda colonna seconda sezione possiamo andare a nominare all'interno quello che è colonna 2 per esempio e avere un punto di riferimento quindi se siamo in una pagina lunghissima andiamo qui dal navigatore non c'è bisogno che facciamo tutto lo scroll della pagina clicchiamo direttamente sul navigatore colonna immagine ci porterà direttamente all'immagine che vogliamo andare a modificare allineamento qui stiamo parlando di immagine no ritorniamo sulle colonne eccole qua abbiamo visto credo tutto si effetti di movimento anche le colonne le possiamo spostare con un margine negativo siamo ricordati sempre eventualmente di aprire le catenelle se volete fare soltanto una modifica se no che modifica tutto per esempio la colonna la possiamo portare in alto vedete che sta salendo il contenuto possiamo restringerla verso solo verso una direzione per esempio a destra se vogliamo vedete allargare costringere solo da un lato sono tutti tutti effetti e impostazioni vi imparerete mano a mano che utilizzate elementor e elementor pro credo che abbiamo visto tutto in questa lezione abbiamo visto le impostazioni delle sezioni e delle colonne come si utilizzano e quali sono i vari layout potete andare a esplorare e poi andare a realizzare per il vostro sito web ciao ragazzi ci vediamo nella prossima lezione ciao a tutti da raffaele